Matteo Romano su All Music Italia, ben trovato, come stai? Molto bene grazie, tutto a posto. Ci ritroviamo in occasione dell'uscita del tuo primo EP, un EP composto da canzoni che in qualche modo abbiamo un po' imparato ad amare con il passare degli anni di questi quattro anni. Come stai vivendo questi giorni pre uscita? Non vedo l'ora, cioè io sono proprio gasato, ma tanto, non si vedrà dalla mia faccia, ma lo sono veramente e non vedo l'ora. Cioè lo vedo proprio come un punto d'inizio, questo EP, anche perché, come dici tu, ha tanta mia storia già musicale dentro e tanto del mio percorso e di quello che è già stato, ma dall'altra parte penso ci sia una buona base per anche aprirmi a un po' il nuovo me, al nuovo Matteo di adesso, di 22 anni, che è pronto un po' a iniziare a questo nuovo percorso musicale, a dedicarsi al 100% alla musica. Poi contestualmente a questo nuovo EP mi sto laureando, quindi sono proprio in un periodo in cui si stanno chiudendo un po' di cerchi e stanno iniziando un po' a quadrare tutte le cose, quindi sono molto contento. E pensando un po' a questi cerchi che finalmente trovano, appunto, si riuniscono, le due estremità sono sempre più vicine, com'è il bilancio di questi quattro anni? Buono, molto buono. Allora, lato università, tranquillo, io poi non ho mai avuto problemi da quella cosa lì, quindi sono contento di finire il mio percorso e in realtà di avere un po' chiuso questa cosa qua. Lato musica, sento che sono cresciuto tanto e anche personalmente sento che questa cosa si rifletta nei nuovi pezzi, anche nella mia consapevolezza e nella mia capacità anche di ascoltarmi e sono molto contento di questa cosa, ma più che altro sento che questo EP è un po' la chiusura di tutto il primo percorso della mia ricerca un po' artistica di adesso e darà poi inizio a tutta un'altra, sento che è proprio l'inizio di una nuova era, poi adesso fa figo dire le ere musicali, quindi diciamo un'era. Tu prima dicevi guardandomi in faccia probabilmente non sembro così felice come lo sono realmente e mi verrebbe anche da dire che ascoltando le tue canzoni tu sembri tanto malinconico, tanto nostalgico, ma poi finta nostalgia. Esatto, esatto. Ma in realtà è proprio la mia anima, è un po' divisa tra, ora sembra un po' tumaccio dire la mia anima, sembra molto, però sono proprio un po' diviso da queste due sfaccettature di me da una parte, quello un po' più malinconico, paranoico, che si fa mille remore, mille rimorsi e si ritrova un po' nei miei brani un po' più intimi dell'EP, soprattutto sto pensando a quelli nuovi, no? Non esisti. Oppure anche in finta nostalgia parlo anche di questa sensazione qua, quindi sono molto più razionale e dall'altra penso si colga anche della cosa di cui sono contento di questo nuovo EP e dei nuovi brani, la mia parte anche un po' più leggera che ho cercato di esplorare nell'ultimo periodo, quindi sì la parte riflessiva nostalgica che però dall'altra parte è quella di un ragazzo di 22 anni, no? Quindi poi io stesso sono a volte un po' troppo pesante con me stesso, un po' criticone, molto perfezionista, quindi anche un po' della pesantezza viene da lì, io me la vivo come pesantezza, dall'altra però c'è proprio questo bisogno anche di lasciare andare, di vivere un po' più serenamente ma anche la musica stessa ed è proprio quello di cui sono contento del nuovo progetto perché penso si colga quanto in più mi sto divertendo e quanto sto cercando di vivermi al 100% il lavoro ma senza viverlo come tale, quindi ricordandomi sempre che comunque sto facendo ciò che più amo nella vita, quindi vivermelo con questa tranquillità e con questa consapevolezza. Quattro anni di musica, quattro anni di crescita, l'università nel mezzo e questa è un'età in cui si cambia mille volte, si cambia il carattere, si cambiano le idee, se dovessi descriverti oggi con tre aggettivi pensando un po' al Matteo di Concedimi, no? Ok, allora ti direi riflessivo, più che riflessivo diciamo proprio un po' paranoico, cioè molto celebrale però nel senso anche buono, poi sincero che penso sia una cosa che è sempre stata il mio percorso ma perché una mia qualità o problema è che non so mentire, quindi questa è la cosa che è sempre rimasta in me e un po' di leggerezza, a me piacerebbe che arrivasse questa cosa e mi sento proprio un po' uno sciallone e vorrei che arrivasse, già che me lo dico da solo però eccomi qua. Invece parliamo adesso della tracklist di questo disco, ci sono i nuovi pezzi, ci sono canzoni che abbiamo imparato a conoscere, ad apprezzare, ma ne mancano delle altre. Come hai scelto i brani da inserire all'interno del disco? Beh allora, ho cercato di un po' riprendere per quanto riguarda i brani già usciti i momenti un po' più salienti degli ultimi tre anni per quanto mi riguarda personalmente cioè sia dal punto di vista personale che dal punto di vista poi del percorso artistico, no? cosa hanno significato questi brani per la mia carriera e cosa hanno significato per me quindi ci sono magari brani un po' più importanti dal punto di vista artistico come, non lo so, Virale che è stato il mio brano di Sanremo o Tulipani Blu che è stata un po' la mia riscoperta anche del mio lato un po' più leggero e dall'altra parte anche il mio primo featuring, quindi importanti da quel punto di vista lì anche però brani che magari sono stati importanti per me personalmente, no? quindi Casa di Specchi, Assurdo e per quanto riguarda i brani nuovi ho cercato di dare una minima coerenza rispetto a quello che volevo si conoscesse del Matteo di adesso Matteo mi è uscito un po' strano del me di ora e del Matteo un po' più consapevole che sta cercando di abbracciare un po' il pop nel vero senso della parola con anche un po' di sperimentazioni e una nuova visione anche della musica, un po' più scialla Tu adesso parlavi di collaborazioni e finora ne hai due importanti messe lì da parte, no? A shift in qualche modo come direbbero gli inglesi pensando al futuro, a questo cerchio che si chiude e subito ne iniziamo a disegnare un altro c'è un artista che hai già docchiato con il quale vorresti collaborare in un futuro più o meno prossimo, ecco, anche tra dieci anni? Beh, ce ne sono tanti in realtà il mio sogno, ora come ora, sarebbe Lisa cioè proprio dream come true ma anche già solo il poter andare in studio e poter vedere e scrivere insieme un qualcosa senza necessariamente che debba uscire, no? L'esperienza di poter scrivere con un qualcuno che ammiro così tanto e che vedo così anche preparato nell'ambito musicale dovessi dirti qualcuno della mia generazione sicuramente Madame e poi ti dico anche questo internazionale ma perché sono in fissa Lizzie McAlpine cioè proprio quello sarebbe manifestiamo anche da quel punto di vista lì perché sempre l'internazionale, il mondo anche dell'inglese è un mondo che mi affascina molto Tu adesso parlavi di artisti della tua generazione e da pochi giorni sono stati in qualche modo ufficializzati i nomi degli artisti che accederanno alle audizioni live di Sanremo Giovani Ti piacerebbe tornare sul palco dell'Arison e soprattutto hai una canzone che dici cavolo questa mi piacerebbe presentarla su quel palco? Ma allora, ora come ora no ma perché sto pensando alla fine del liceo non è vero all'università, all'EP quindi ora come ora non ci ho messo ancora testa sinceramente mi piacerebbe sicuramente tornare soprattutto per ripresentarmi un po' come il nuovo me con una nuova consapevolezza ci sono un po' di brani che potrebbero essere giusti però appunto, come ti sto dicendo, non ci sto pensando ora come ora se ci sarà al modo, perché no? Tornando invece all'EP, Finta Nostalgia hai già in mente dei live, delle presentazioni per cantare anche poi quelli che sono i nuovi brani per la prima volta dal vivo? Allora, di preciso non ancora però spero e penso che ci sarà modo di cantare insieme questo nuovo EP poi l'idea proprio di raggruppare un po' il mio percorso in questi nove brani era proprio anche quello di dargli anche una dimensione forse live e cercare di portare anche la mia musica a quel livello lì che è qualcosa che io ho sempre sognato, aspirato Allora ti faccio un in bocca al lupo per la laurea Grazie per il tuo tempo, ci vediamo presto Grazie mille a te, grazie